oggi ho preparato per voi una ricetta molto sfiziosa sono i muffin di zucchine di yogurt greco ideali per un antipasto oppure un aperitivo si preparano velocemente grazie al nostro messier chiusi in connect o al messier chiusi in plus e una passata in forno sono pronti profumati e morbidissimi da gustare vediamo la ricetta con tutto il procedimento e gli ingredienti gli ingredienti per preparare i nostri muffin di zucchine yogurt greco sono 150 grammi di yogurt greco due zucchine medie taglato julienne un cucchiaio d'olio una bustina di lievito disidratato per salati un cucchiaio di parmigiano 150 grammi di farina 00 se vi piace anche di farina di count e due uova e in più sale la prima cosa che vogliamo fare è mettere nel boccale le uova l'olio lo yogurt il sale il parmigiano e le zucchine quindi abbiamo detto le uova come prima cosa poi un cucchiaio d'olio il nostro yogurt greco mi ricordo poi mettiamo il sale un bel pizzico abbondante mettiamo il parmigiano le zucchine e andiamo ad impulsare 30 secondi a velocità 2 per mescolare il tutto a questo punto andiamo ad unire il lievito alla farina e li andiamo a versare nel boccale setacciandoli però in maniera tale da renderli più sottili terminata questa operazione impostiamo un minuto a velocità 2 un minuto intanto andiamo a preparare dei pilottini abbiamo preparato i nostri pilottini adesso versiamo il composto ciascuno di questi non riempiare ovviamente fino all'orno ma riempiare per circa un terzo un impasto molto morbido che ricorda proprio quello dei muffin dolci quindi con un cucchiaio lo andate sistemare all'interno dei pilottini stessi una volta terminata di riempirli potete porre in forno a 180 gradi per circa 30 minuti controllate comunque la doratura della superficie io finisco di riempire i miei pilottini ci vediamo dopo a termine della portura mostro il risultato ecco pronti i nostri muffin di zucchine e yogurt greco sono perfetti per un aperitivo e molto sfiziosi e molto leggeri da gustare e se questa ricetta vi è piaciuta vi invito a seguirmi sul mio sito www.messiericette.it vi invito ad iscrivervi al nostro gruppo facebook Messier Cruising Connect e Plus Italia e soprattutto vi invito ad iscrivervi al mio canale In Cucina con Messier e buon aperitivo a tutti con i nostri muffin